bella giornata oggi si va all'una parte ma pensavo di portarti a sciare io a me non mi piace io un'idea ce l'avrei ma io annoio come fai a dire che ti annoi che non sei mai voluto venire salvolo in macchina ok tanto uno vale l'altro sono tutti uguali no questo è favoloso fidati di mamma vedrai che mi ringrazierai adesso le verdure amore le dimentichi sempre scommetto che ho dimenticato anche la mia uva frutta e verdura rapidi orata gamberi polpo sushi non ti sembra troppo e no ho invitato anche pietro barbara renato è vero è vero amore capitani allerta miettitori svelti ma sottinteso ok cambio ma allora dimenticato la torta c'è ma sottinteso barbara però non mangia pesce è vero barbara non mangia pesce spetti ragazzi ci siamo ragazzi la festa comincia per la signora valeria poco peperone mi raccomando e al figlio del dottor zullini molto caviale e poco potente per maria antonio e sandro che prepariamo menù extra lo so oggi per loro è un giorno speciale ma perché continua da dire che un giorno speciale e tu prova a indovinare 7 ottobre una data molto importante per te ricorda per te ricorda No, 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 no. No, 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 no. E questo sarà un supermercato? Sandro! Sandrino! No, quello che vedi è solo una piccola parte di quello che avviene alle spalle dei nostri supermercati. Tutti i prodotti che arrivano qui sono stati raccolti in campagna solo poche ore fa. Allora, che ne pensi? È buonissima! Mele, ok! Ma tu chi sei? Una delle 20.000 persone che tutti i giorni lavorano nei 150 negozi S. Lunga per tenere la campagna, il mare e la natura più vicini possibile al carrello della spesa della tua mamma? La faccia del negozi! Qualcuno voleva dell'uva? Oh, mi sbaglio! Ma tu come fai a saperlo? Che meraviglia! Guarda quanta! Buonissima! Che grande, buona! Hai mai visti così grande? Grazie! Mamma mia! Ancora! E tre! Ma che bello! Io ho finito! Venite a darmi le mani! Che bello! Salve! Buongiorno! Buongiorno! Ciao a tutti! Ciao, ciao! Tutto bene? Sì? Non vedo le melanzane! Grazie! È sicura? Molinto! Eh, che c'è? Le melanzane! Signora Maria! Ecco! Vanno bene? Sì! Grazie! Duomo, mamma mia! E questa è per lei! Che bello! Grazie! Grazie, molto gentile! Ciao! Buongiorno, Antonio! Buongiorno, Maria! Buongiorno, signora Maria! Buongiorno, signora Antonio! Buongiorno! Buongiorno! Auguri! Grazie! Grazie! Buongiorno, Veronica! Come sta? Questo? Ottimo! Quell'arrosto era tenerissimo, eh? Sì, sì! E anche il campaggio! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, signor Antonio! Buongiorno, signora Maria! Ok! Così va bene? Ok E tu come la preferisci la carne? Scommetto che ti piace senza grasso, eh? E sottile Scommessa vinta